ciao ma ciao allora ti fanno vedere un effetto veramente incredibile ok prima di tutto tu che sei qua vicino testimone sono tutte carte diverse diverse giusto ok controlla sono doppie ma no che doppio sono normali si vede normali si ti fidi giacamente se vuoi controllare meglio ok adesso le carte vanno messe dentro la stuccia giusto e non verrà toccato più niente qui è un mazzo di carte con tutte carte diverse regolari tutte regolari con i due giochi compreso ok ora cosa succede sono 52 52 ora tu stesso a tuo gusto tocca una carta che vuoi tu quella che voglio questa la devo prendere eccola qua la prendo in generale due di cuore due di cuore ma la carta c'è una piccolina non ti piace una carta non è brutta vuoi anche cambiare la posso cambiare allora sapete che dico la voglio proprio cambiare la cambia perché non mi piace due cuore perché è piccolina una cartina un po' quella che vuoi tu ma prendo il nero scommetti beh vedai che prendo nera guarda eh nera questo è il jolly ah il jolly non va adesso prendo nera guarda quanto scommetti perché io ho tanta fortuna guarda no rossa 4 ho aumentato sono aumentato è un po più soli a tua scelta si 4 di quadri non è male me la posso va bene ok diamo il numero ah il numero 10 tu stesso prendi il mazzo di carte questo non questo questo chiuso addirittura si tira fuori le carte tutte bene in maniera corretta ok perfetto tutto è tolto ora tu stesso gira metti il mazzo cimo a fondo vai sopra cimo a fondo che vuoi dire cimo a fondo e cosa vuoi dire rispondimi cimo cimo o fondo a fondo 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 ok quindi al sotto del mazzo tu stessi giro 10 carte vai cioè la metto così o le giro proprio così uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci che carte vedi no questa non ci credo ma è impossibile scusa se qua c'era il quattro di quadri hai scelto il numero il carte vedi oppure è cambiata hai dato un numero che addirittura è cambiata anche se ci fosse qualche cosa non c'è non c'è possibilità più di mazzo le sei toccato i numeri di quello niente cioè niente sei sei proprio sei proprio una persona che in questo campo numero uno magic boy non per niente proprio sei un mentalista proprio è impossibile è incredibile è proprio dell'incredibile però sai qual è il discorso è interessante la cosa però mescoliamo il passo e ancora una volta ok mescoliamo il passo giusto? si mescoliamo pesca una carta veloce vai eccola qua eccola qua la carta getta di qua la carta non è male da una cinquanta la minora vai facciamo venti ok tu stessi prendi le carte togli le carte in maniera corretta come faccio? come fa? anche quando sei dopo dovessi pensare che effettivamente c'era un'altra quadra mettiamo che era sopra cos'è per te? era sopra ok conta venti carte vai non faccio più fondo venti carte non conta vai per vedere il miracolo due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici sette diciotto questa è la ventesima carta ventesima carta gira signori se questo è getta di cuore io vado via cos'è? lo vedete piano piano getta di cuore incredibile 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 con la velocità supersonica ho preso la carta senza neanche pensarci guarda e ti ringrazio la fa? per due volte subito complimenti complimenti sono giochi da televisione e così un giusto che Grazie.